Buon pomeriggio a tutti, ore 14 in punto del 12 di novembre, diretta senza preavviso perché sono in partenza per Roma e quindi sono riuscito a incastrare la diretta soltanto in questo attimo. Cogli l'attimo, come diceva la signorina Vaccheroni della TV delle Ragazze, che non so se avete rivisto, giovedì scorso c'è stata la prima puntata delle 4 del programma di Serena Dandini che vi consiglio moltissimo. Saluto Fabio Romano che è arrivato per primo a questa diretta. Prima di cominciare come al solito piggio e vi chiedo di fare lo stesso con la freccetta del condividi che vedete qui sotto perché serve naturalmente invitare quante più persone possibile alla diretta ma anche vi invito a fare la stessa cosa quindi a condividere il video che resta di questa diretta poi sulla mia pagina Facebook, sul mio canale YouTube e sul blog www.ivanscalfarotto.it. Inizio di settimana, io come ho detto sto partendo perché appunto questa settimana dovremo avere più voti della settimana scorsa, la settimana scorsa non abbiamo votato né mercoledì né giovedì per i noti eventi legati ai disaccordi all'interno del governo, questa settimana dovrebbe arrivare la legge di delegazione europea ma comunque vi aggiornerò su quello che stiamo facendo in Parlamento durante la settimana quindi durante le dirette di domani, mercoledì e giovedì sperando di riuscire a farle tutte. Ma quello che volevo discutere con voi oggi, quello che volevo commentare in realtà sono un paio di questioni che sono emerse ieri. La prima riguarda una vicenda che abbiamo già toccato appunto ieri in diretta, poi ieri sera da Fabio Fazio, Rocco Casalino che appunto di cui abbiamo già parlato è andato a giustificare le sue parole appunto in diretta televisiva, sapete le parole sui down, sulle persone, insomma sugli anziani, le cose, quel video indegno che avevamo visto che tra l'altro fa il paio con un altro video nel quale dice che gli extra comunitari credo puzzino cose del genere, insomma cose incredibili che Casalino ha detto durante la sua carriera televisiva e non. Ma innanzitutto devo dire che mi ha fatto abbastanza impressione vedere che Fabio Fazio nel programma di massimo ascolto della rete Ammiraglia della Rai abbia invitato non il presidente del Consiglio ma il suo portavoce. Devo dire dopo Casalino è arrivato Gentiloni, normalmente gli ospiti di Fabio Fazio sono ospiti di un certo livello e mai pensavamo che il portavoce del presidente del Consiglio dei Ministri avesse lo spazio che normalmente ha il presidente del Consiglio dei Ministri. Anzi, devo dire che la cosa interessante è che Fazio alla fine della sua intervista gli ha proprio detto guardi Casalino in realtà io ho più interesse ad avere lei in trasmissione che Conte perché in realtà come personaggio diciamo giornalisticamente mi sembra più interessante che lei che il suo capo e questo ci racconta molto in realtà io penso degli strani tempi che stiamo vivendo e che sta vivendo la politica italiana perché è evidente che c'è un generale riconoscimento che poi quello che Fabio Fazio in un certo senso ha verbalizzato del fatto che Casalino ha un ruolo che va ben al di là del ruolo che per esempio aveva il mio collega attuale collega Filippo Sensi che è stato uno straordinario bravissimo portavoce della presidenza del Consiglio sia con Renzi che con Gentiloni ma penso che Filippo Sensi mai si sarebbe sognato di andare in prima serata da Fabio Fazio a dire le cose sue. Anzi, vedo che Filippo è abbastanza schivo da essere diciamo anche come parlamentare uno che non fa nulla per mettersi in mostra anche se fa un lavoro eccellente all'interno del gruppo. Per cui è molto strano questa specie di promozione ma che dovuto al fatto che tutti quanti sappiamo che Casalino risponde direttamente alla Casaleggio SRL e che le sue prese di posizione sono prese di posizione importanti. In un certo senso non si sa appunto se sia più Conte a portare la voce di Casalino o Casalino a portare la voce di Conte. Sapete che Casalino spesso strattona il presidente Conte, lo porta via o lo fa portare via dai suoi assistenti, stabilisce, insomma poi abbiamo sentito i suoi audio rubati, quelli sui tecnici del MEF. Insomma è un personaggio abbastanza inquietante e il cui ruolo in una democrazia rappresentativa francamente non si capisce. Poi sapete che appunto è stato individuato questa norma salva Casaleggio all'interno dei disegni di legge che stiamo discutendo in Parlamento in questo momento per dare una natura giuridica, un ruolo più riconoscibile alla Casaleggio SRL, però certo tutto questo è stato molto curioso, molto molto curioso vedere questo personaggio poi la cui storia è anche una storia molto controversa al di là delle cose che dice, ma insomma vederlo lì è stato strano. E poi è stato ancora più strano sentire le cose che aveva da dire perché se ha provato in un certo senso a giustificarsi sulle cose appunto che pronunziava, su quelle parole orribili che pronunziava nel video, tra l'altro dicendo cose che neanche tanto bene si capivano tipo sono omosessuale, sono stato un emigrato e di conseguenza non potrei mai pensare queste cose. Ora è una giustificazione che lascia abbastanza il tempo che trova, il fatto di essere omosessuali o di essere emigrati ed aver provato su se stessi la discriminazione non significa che questo sia per forza una giustificazione. Io posso dire che l'unico parlamentare di colore che siede in Parlamento in questo momento è un senatore della Lega Nord, anzi della Lega chiedo scusa, ho sempre questo lapsus freudiano, comunque senatore della Lega per cui il fatto di essere una persona di colore e di avere una certa opinione diciamo sui flussi migratori o diciamo così o militare in un partito che non fa nulla per nascondere la propria diciamo così antipatia o la non simpatia nei confronti degli immigrati sono due cose che non necessariamente si scontrano. Lo dico io stesso da omosessuale, non è che il fatto di essere omosessuali ci renda tutti progressisti e tutti filantropi, si può essere benissimo omosessuali ed essere una persona come dire dalla mente aperta, si può essere omosessuali e avere altro tipo di orientamento politico, insomma orientamento morale. L'omosessualità non è una coperta che copre di bontà e di filantropismo chiunque la indossi. Ma al di là di questo però la cosa che mi ha fatto veramente specie è che Casalino da un lato è andato lì per dire io non penso queste cose sui sulle persone down o sugli anziani ma poi quando Fazio gli ha detto, gli ha chiesto ragione delle parole di Battista e Di Maio sulla stampa si è ben guardato dal dire che queste cose non si dicono, che in un regime democratico non è pensabile che il vicepresidente del Consiglio dei Ministri attacchi la stampa in quel modo che lo faccia Di Battista che è un suo sodale, un suo compagno di merende diciamo così. Ha detto poi delle cose anche abbastanza sconclusionate tipo che la stampa deve essere il cane da guardia del potere ma non deve mordere sempre. Quindi evidentemente secondo Casalino la stampa deve essere il cane da guardia del potere che morde soltanto quando glielo dice il potere. Quindi non si capisce veramente. Ed è stato chiaro che il buon Casalino si è arrampicato sugli specchi. Alla fine sulla libertà di stampa non ci siamo proprio. Per cui se l'andata da Fazio voleva servire a rassicurarci sul senso di democrazia di questo governo del presidente del Consiglio e del suo portavoce diciamo che l'esperimento non è riuscito. Detto questo il secondo argomento al quale volevo riferirmi invece è il referendum di ieri a Roma. Il referendum sulla gestione dell'ATAC che non ha raggiunto il quorum. Questo va detto in modo molto chiaro ed è un po' uno stop rispetto a quel senso del civismo che sembrava aver preso diciamo molto piede nel nostro paese. Penso alla manifestazione di Roma in Campidoglio. Penso ai 40.000 che erano presenti in piazza a Torino a favore della TAV. Ma insomma abbiamo visto una serie di atti di civismo e di ribellione nei confronti del governo e dell'atteggiamento del governo di attacco alle regole condivise, alle regole democratiche, alle regole della nostra convivenza civile. Poi ieri stranamente i romani non hanno utilizzato questo strumento che avevano a disposizione. Io devo dire me ne sono molto dispiaciuto un po' perché da persona che è residente quantomeno part time diciamo domiciliata a Roma trovo che la mobilità nella capitale sia uno dei problemi principali se non il problema principale. Muoversi a Roma è un incubo, è impossibile sostanzialmente. Io che non ho una macchina, non ho un autista, non ho un motorino e non ho una bicicletta mi devo spostare necessariamente in taxi perché l'alternativa dei mezzi pubblici sostanzialmente a Roma non c'è. E poi era un modo mi sembra anche per, si poteva segnalare diciamo così, l'insoddisfazione per una città il cui degrado, il cui abbandono sono francamente sotto gli occhi di tutti. Eppure misteriosamente questo non è successo. La Raggi la considera una vittoria politica. Io devo dire mi sembra più una vittoria politica questa che la soluzione in giudizio, una soluzione che come si è giustamente notato non ha detto che il fatto non è stato commesso, ha detto che il fatto è stato commesso ma che non costituiva reato. Quindi il falso c'è stato e comunque diciamo così quello che secondo me conta rispetto alla Raggi è proprio il giudizio politico dei cittadini e quindi capisco che lei lo consideri una vittoria. Mi sembra, devo dire, tuttavia questo esito lascia in me aperti alcuni punti interrogativi perché vedete io ho spesso insistito sul fatto che in una situazione politica come questa non tutto può essere lasciato ai partiti e non tutto può essere lasciato a chi rappresenta i cittadini istituzionalmente a partire da me. Diciamo mi sono messo a lavorare con passione sui comitati civici proprio perché penso che sia il momento nel quale è necessario sollecitare la partecipazione di tutti. Le regole del gioco che sono sotto attacco in questo momento non appartengono per definizione soltanto a una parte devono necessariamente essere considerato un patrimonio di tutti e il fatto che non si sia usato questo strumento per poter sollecitare un cambiamento su un'area di crisi così grave e così oggettiva come il trasporto pubblico a Roma sinceramente mi ha lasciato abbastanza perplesso anche sulla reattività, sulla capacità di reagire, sul tempo di reazione dei cittadini romani rispetto a una situazione che francamente è oggettivamente insostenibile. Non penso di fare ideologia dicendo che Roma è una città male amministrata e abbandonata a se stessa in questo momento. Lo dico in particolare da cittadino milanese sono appena tornato da una giornata di appuntamenti, da una mattinata di appuntamenti e ho potuto fare tutto tranquillamente prendendo il tram e con il mio abbonamento annuale che con 300 euro all'anno mi consente di salire e di scendere a tutti i mezzi pubblici. Io amerei poter fare la stessa cosa a Roma ma come ho detto non è assolutamente possibile. Vabbè, comunque tant'è questo va registrato, secondo me è giusto registrare sia i successi che gli insuccessi e porsi anche un problema anche come appassionati di politica rispetto a certe reazioni dei nostri concittadini che in qualche caso ci sono come è successo a Torino e in qualche caso misteriosamente non ci sono come è successo ieri a Roma. Tutto bene madama la Marchesa? Ecco, io non penso che sia così. Mi fermo qui anche perché siamo arrivati alle 14.12 e sono in partenza per Roma come ho detto. Spero di essere in grado di poter fare la mia diretta domani mattina, domani è giornata di impegni e poi domani pomeriggio torniamo in Parlamento. Spero di riuscire a incastrare in qualche modo la diretta, ci tengo moltissimo anche per raccontarvi un po' come sarà la settimana parlamentare ma mi fermo qui. Come al solito vi ricordo, vi chiedo per favore di condividere il video che di questa diretta resterà sulla mia pagina Facebook, sul mio canale YouTube e sul sito www.ivanscalfarotto.it. Saluto tutti, Gianni Bertoni, Tamara Margarito, vedo nomi che continuano ad accavallarsi e mi fa piacere rivedervi ma mi fermo qui, vi auguro ovviamente un eccellente lunedì sera, vi do appuntamento spero a domani. Ciao!